Non è sempre facile parlarsi in famiglia sul lavoro tra amici, eppure la comunicazione è alla base di ogni sana relazione. Ecco il perché di una serie di incontri mensili gratuiti promossi dall'Avos e dalla terza circoscrizione di Verona al Chievo con la dottoressa Antonia Migliorini sul tema comunicazione consapevole in famiglia. La comunicazione è un fattore importantissimo nella famiglia perché si rischia di non capirsi e di non conoscersi. In nome di alcuni miti che bisogna anche sfatare, e non voglio essere fraintesa con questo, ma nel nome dell'amore allora significa che io devo assecondare, devo capire l'altro, o l'altro mi deve capire ancora prima che io parli, ancora come se fosse, potesse leggere i pensieri. Allora è chiaro che questo diventa pericoloso, diventa pericoloso perché non... O meglio non sempre accade. Non sempre accade, prima di tutto, quindi l'infelicità è alle porte perché appunto l'altro non mi comprende, non mi capisce, quando invece, ed ecco di nuovo il lavoro che voglio fare io nella comunicazione, quando invece io mi sforzo di capirmi, mi sforzo di capire che cosa fa bene a me, che cosa ho bisogno, posso imparare a chiedere all'altro che cosa può fare per rendermi la vita più felice. Per una coppia è fantastico guardarsi negli occhi e intuire i bisogni dell'altro, ma spesso uomo e donna ragionano in modo diverso e non è sempre facile capire i bisogni altrui che è necessario appunto comunicare. Abbiamo veramente due mondi diversi, l'uomo e la donna. Se non impariamo a comunicare rischiamo di intanto di creare un'omologazione pazzesca, nel senso che io donna voglio che tu uomo mi capisca esattamente come voglio io, io uomo voglio che tu mi capisca esattamente come desidero io. Quindi dobbiamo essere sullo stesso piano e questo appunto non esiste perché esiste la natura che è diversa. E questo devo dire che è una cosa che mina tantissimo le coppie, proprio perché si dà per scontato che l'altro debba capire immediatamente quali sono i miei bisogni, perché penso che sia fatto come me e questo è un grosso rischio, un grosso errore, un grosso rischio nella coppia. Il 25 gennaio la dottoressa Migliorini affronterà un altro tema sul quale spesso si lasciano dei sottintesi che con il tempo possono diventare spinosi. Parlerà del denaro nella coppia e nella famiglia. Appuntamento il 25 gennaio alle 20.45 al Circolo Ufficiale di Castelvecchio.